Ora Lorenzetti, insomma, anno importante. Intanto, che anno è? È il sesto. Emozione? Sempre, perché si è in un posto privilegiato per fare una cosa privilegiata, sia per quel che riguarda lo sport che è la mia passione, e soprattutto perché lo si fa in un campionato italiano di primo ordine. Un privilegio partecipare alla Superlega, dice Lorenzetti, allenatore dell'ITAS Trentino, come bello sarà tornare a giocare con il pubblico. È un'emozione, quando si parla di emozioni bisogna prima ascoltarle, perché non dobbiamo dare per scontato quello che abbiamo vissuto due anni fa, nel senso di quando ce l'avevamo. Poi scendendo sul tecnico, stagione che partirà con quattro ragazzi illuminati dall'oro europeo, dove brilla forte la stella Micheletto e il ritorno di Kazischi con l'ufficialità dei gradi di capitano. Allora, Lorenzetti, cosa si aspetta? Speriamo di essere bravi, l'entusiasmo del rientro, del ritorno di un grande campione, l'entusiasmo di un'estate finita da protagonisti, da parte di qualche ragazzo, e la volontà di continuare un certo percorso fatto negli scorsi anni da parte degli altri. Finale con la forza della volontà e dell'emozione. La volontà è proprio di trovare in quella emozione un'energia nuova per fare insieme un grande campionato.